appassionati di calcio ben trovati da fabio mora campionato di eccellenza girone b quattordicesima giornata si affrontano la scafatese e la formazione della santo maso andiamo a leggere subito gli schieramenti delle due squadre in campo la scafatese padrona di casa in maia giallo blu con il canarino sul peto con numero uno fantasia due vicinanza tre amore quattro de feo cinque paragallo sei chiariello sette balsamo otto de bellis nove romano dieci pepe undici ferrentino a disposizione del tecnico incitti con il numero dodici c'è belviso con numero tredici starita quattordici spera quindici mardari sedici maggino diciassette teta e diciotto guadagno indisponibili a ruta e greco non convocati romano e guarino squalificato spasiano risponde il santo maso in maia blu scuro con numero uno boione due moffa tre di gianni quattro romano cinque trifone sei tirri sette tornatore otto avallone nove da cerno dieci gianna tasio undici a tucci a disposizione del tecnico silvestro con il numero dodici vietri tredici fumo quattordici dello russo quindici ambrosino sedici di falco diciassette bergamino e diciotto de feo a dirigere il match il signor ambrosino di torre del greco condivato dai guardialine baldissara di ercolano e autiero sempre di ercolano la carica della formazione padrone di casa in maia giallo blu va a rincorrere il pallone lo batte corto per de bellis il passaggio di ritorno ancora verso balsamo il colpo di taco per amore c'è spazio per lui il tocco all'indietro attenzione ferrentino può calciare di là lo fa col destro fermato poi de bellis prova la soluzione la distanza e c'è il gol e c'è il gol di de bellis c'è subito il gol di de bellis che sblocca il punteggio con questa affiondata dalla distanza dopo l'iniziativa di ferrentino la palla è finita sulla destra di de bellis che ha calciato tenendo basso il pallone e trovando l'angolo giusto niente da fare per l'estremo difensore boione la scafatese sblocca subito la partita quando il cronometro dice che sono trascorsi cinque minuti in questo primo tempo la rete di de bellis scafatese uno santo maso zero il colpo di testa cadendo attenzione poi la palla arriva ferrentino c'è spazio per lui ferrentino si allarga adesso col mancino prova a puntare l'avversario ferrentino ancora il colpo di tacco a disorientare la marcatura poi il cross perfetto in aria di rigore con il colpo di testa con l'azione adesso che si sviluppa a destra con di gianni poi il tocco all'indietro nuovamente verso tiri aria di rigore attenzione il miracolo di fantasia che parata che ha fatto fantasia il lancio in avanti il colpo di testa poi attenzione è lì ancora un'indecisione clamorosa in difesa finisce quello a primo tempo ma a me sembra che mancava ancora qualcosa non so forse avevo un cronometro diverso rispetto alla direttore di gara 1 a 0 scafatese e noi ci sentiamo per la ripresa all'intervallo con un paio di minuti di anticipo e adesso ci prova ferrentino con il sinistro la distanza con la palla che va all'ambira e il palo questa conclusione velenosa di ferrentino largo a sinistra ancora verso De Feu il cross in aria di rigore colpo di testa ad uscire poi ancora Santomaso che ha spazio per offendere con questo destro dalla distanza il montante colpito con questo destro improvviso attenzione qui con il Santomaso che chiede il penalty il calcio d'angolo per la scafatese il lacrosse in aria di rigore il colpo di testa e il gol e c'è il gol e c'è il gol e c'è il gol della scafatese e c'è il gol del 2 a 0 al momento giusto al momento opportuno quando il Santomaso sembrava potesse pareggiare il match è arrivato il gol di Maggino per il 2 a 0 della scafatese con questa fiammata improvvisa con questo cross in aria di rigore il colpo di testa di Maggino che trova così il 2 a 0 al minuto numero 14 quando la scafatese deve rispondere presente nella fase offensiva arriva sempre la rete importante fondamentale in questo momento del match con il colpo di testa intuffo di Maggino per il 2 a 0 del canarino che la scafatese ha rischiato grosso qualche istante fa con il montante per il tiro a distanza di Atirri poi un rigore chiamato a gran voce per un possibile fallo mani in aria ma nel momento in cui la scafatese ha guadagnato la fase offensiva con la ripartenza successiva è arrivato il gol di Maggino con uno splendido tuffo di testa per il 2 a 0 della scafatese e adesso attenzione ancora al Santomaso con il gol immediato della 2 a 1 da parte degli ospiti e di nuovo il numero 11 della scafatese De Bellis c'è spazio per il contropiede andiamo 4 contro 4 Balsamo prova a puntare l'avversario Balsamo prova il destro giro con la parata di Boione che soluzione di Balsamo riparte però il Santomaso attenzione qui c'è spazio linea centrale da passaggio largo a destra il destro fermato alla conclusione del numero 10 ecco per lui Paragallo va a dargli manforte in avanti guadagno ancora in aria di rigore Maggino perde l'attimo Maggino poi ancora arriva in aria Maggino cerca di sfondare il muro della retroguarria avversaria poi riesce anche a calciare in porta con l'uscita di Boione il colpo di testa adesso con guadagno e poi Maggino è cambiata attenzione la palla per guadagno aria di rigore fermato no c'è il cartellino rosso e calcio di rigore a favore per la scafatese il destro è il gol della scafatese della 3 a 1 di guadagno che torna in campo e ritrova anche il gol l'abbraccio di tutti i compagni di squadra l'abbraccio per guadagno se lo meritava questo gol l'esultanza del numero 18 l'esultanza in tribuna del presidente Cesarello l'esultanza della scafatese che a questo punto può già brindare per un'altra vittoria può brindare per il successo può brindare per altri treputi importanti che la tengono saltamente al secondo posto in classifica del campionato di eccellenza e arriva adesso il triplice fischio di chiusura del signore Ambrosino di Torre del Greco con la scafatese che batte il San Tommaso per 3 a 1 in questa giornata la quattordicesima del campionato di eccellenza dopo il gol di De Bellis nel primo tempo dopo 5 minuti e poi il raddoppio nella ripresa di Maggino con un grande colpo di testa accorciato le distanze immediatamente poi il San Tommaso con Dacerno ma a pochi minuti dal termine il calcio di rigore trasformato da guadagno ha sancito il punteggio definitivo con la vittoria della scafatese per 3 a 1 una scafatese straordinaria come dicevamo applaudita dal pubblico qui al comunale di Scaffati da Fabio Morra è tutto per questa telecronica al prossimo appuntamento con il campionato di eccellenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti